Viaggio Rio Grande Tex-Mex Tu offri panini, offri carne, una carne un po' particolare Ci racconti che cosa? Noi facciamo barbecue americano con cottura lenta lenta E vi possiamo offrire ottimi prodotti Di cui il principe è brisket Che è una punta di manzo Vi facciamo dei panini bellissimi grigliate assortite Costine eccezionali La culea cottura è 3 ore Abbiamo la carne eccezionale E le fantastiche cotture Viaggio, i prezzi sono accessibili In maniera notte in festival Sono anche accessibili i prezzi che offrite voi? Assolutamente sì, abbiamo prezzi adeguati Per tutti i palati e per tutte le tasche Senti Viaggio, che cosa ti senti di offrirci questa sera? Questa sera posso offrirvi un bellissimo Baby Rick Bix qua Che sono molto buone Con la nostra salsa barbecue La cottura viene per 3 ore dentro i nostri forni americani Oppure un ottimo smoke e sauce Fantastica salciccia Dentro un buonissimo panino Noi sappiamo che il tuo cibo è ottimissimo E sappiamo che stai diffondendo questa tua Ti stai espandendo Sì, stiamo cercando di aprire altri punti qua a Milano E stiamo già organizzando bari catering Perché hanno assaggiato i nostri prodotti I clienti che sono venuti qua alla team festival E ci hanno già commissionato dei catering appunto Viaggio, a noi fa molto piacere essere qui E qui vorremmo magari fare Vabbè qualche domandina la faremo lei Quando a meno voglia di ballare Perché sta ballando adesso Adesso E ti facciamo un in bocca al lupo Grazie E grazie di tutto Ciao